Incidente sulla provinciale Perbusano. L'incrocio con via della Cortassa a Favria questa mattina, a mercoledì 28 novembre, è intorno alle 8. Uno scooter, condotto da un giovane di 16 anni di forno canavese, ha tamponato una Citroen C3 condotta da una donna ferma in fase di svolta. L'impatto è stato alquanto violento. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Rivarolo e Castellamonte, l'elicottero del 118, la polizia locale e la radiomobile di Ivrea. Il giovane, dopo essere stato stabilizzato, è stato ritrasportato in ospedale al CTO di Torino. Non è in pericolo di vita. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.